ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19 allora oggi oh ma chi c'era sopra? oh ma cosa ci fai qua? mi rubo il trattore, non può passare, ti serve questo cavale eh insomma è John Deere, potete esame o John Deere? eh dai questa è una domanda scomola, io non voglio inimicarmi nessuno va boh dai tanti saluti da Giuliano e da Riccardo di Xfarm ciao ragazzi iscrivetevi al mio canale in descrizione andate sul suo canale, anche il secondo canale ah no, il secondo canale no, solo il primo canale di Italianfarm ciao a tutti, buona serata